Buonasera a tutti cari ascoltatori e metri, ben trovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e mettere una campanellina per non perdervi nel suo nuovissimo aggiornamento metodo. In questo video c'è un'allerta meteo importante e urgentissima, perché qui c'è una catena di cellule temporaleschie che si sono andate a creare sull'appennino tosco-emiliano e comunque possiamo vedere sulle prealpi e alpi del Veneto del Friuli e anche su tutto l'appennino centrale. sta puntando delle città dell'interno e anche le zone costanti.